C'è qualcuno che si assuma le responsabilità, tu pagano, dici, vuoi fare questo discorso, bianca l'euro. Voi, fermammo l'ecoraggio. Che mi fa a fare? Ci vediamo un discorso. Come ho trattato un tuo cancello e non... ...non vedi un ancappare perché c'è vuole uno... ...che c'è un cancello, subito. ...un tre due in capo che lo fermano con quattro petre. Come vedi un scendio, faccio la festa, subito. Grazie, un cortello? che c'è questa impresa di Catania che hanno a fare un ciavaggio da un decimo altro riso fino a un bivio per Vicar e mi diceva che sono allegita un 5 milanere per un ciavaggio se tu dici che mi ha e se non potremmo muovere e allora io te dico calma se tu dici no e non potremmo un discorso tutta l'informazione possibile appena cominciano poi un ciavaggio poi una ditta e vediamo come siamo comandati se non si fanno un giancino non si arrederà mai vado a giancino per conquistare gli impazzini se che la politica vuole è chiuso fuori come un cane è inizio è inizio